eccoci qua oggi apriamo collezione leggendaria 4, il mondo di Joy, ve lo ricordate Joy? è uno dei personaggi del primo cartone animale, e hanno fatto questa collezione leggendaria, andiamo a vedere che c'è dentro, olè, abbiamo anche l'apertura tecnica con le unghie di ferro, intanto vi faccio notare che la scatola è bella dura, compatta e tra l'altro c'è anche un comodo modo per aprirla da qui di lato, apriamo? andiamo apriamo, ecco subito il tappetino rigido tappetino rigido, anche questo è molto solido, ottimo materiale comunque è cartonato ma con le fiamme, con le fiamme d'acciaio, poi abbiamo le carte, andiamo subito a vedere che si aprono, spostiamoli facciamo vedere, abbiamo queste carte ultra, una e due e questa è solo da collezione non è possibile usarla nei tornei, e poi segna mostro, guardate che carine che sono, tutte ultra, esatto, tra segna montone, esatto, vabbè comunque sia, allora, e poi abbiamo ben cinque bustine, apriamo poste di collezione leggendaria, inizio io? inizia tu, vai Giorgio scatola fratata, andiamo a vedere subito quelle che sono interessanti, distruzione a catena, spirito meditore, su ultra, oppure una super, pratina mazzones, eppure una secret, tributo torrenziale, e queste carte sono cariche, è dentro una bustina, una ultra, una super, una secret, di cui tributo torrenziale secret è molto figa, che a noi ci piace, andiamo con l'altro pacchetto, vediamo un pochino cosa ci riserva il mondo di gioia, vai con il secondo pacchetto, oh, vai, doma, tempesta potente ultra, ultra, diamo il posseduto super, ci piace, giudizio sorenne secret, e queste aquí sono pure carini in questa collezione leggendaria ci hanno grandi grandi carte, golem di lava, danzatrice arpia, ultra, lady arpia 3, super, oulee, gold signore il mondo scuro questo è un cartello del mondo scuro secret ragazzi sono arrivato da un po' presto quindi immagino qualcos'altro ho visto la ultima prima ti ha regalato prima delle cose molto carine tesco evocado mondo zombie ultra la diapia super dispositivo di salvataggio obbligatorio secret carina e poi abbiamo delle carte e con l'ultimo che ci sta nell'ultima bustina dai dai ma che ne sai dai dai non lo dico taglie una bestia rara strega oscura ultra la diapia super l'ultimo studenza effetto libro della luna secret che bel disegno libro della luna secret caspita una bella chicchetta veramente carino caspita non te la vi bravi faccio muore così se vede bene con la luce wow e comunque sia non ci deludono con questo mondo di gioia cioè ogni bustina ha un'ultra una super e una secret esatto e una rara esatto sono quindi garantite più le tre ultra quelle sicure di cui una di collezione e ben sei segna mostro simpatiche pedine segna mostro tutti con dentro una bella scatola utile per portare le carte è un ottimo tappetino e questo qua è una collezione leggendaria se vi è piaciuta mi piace oppure iscrivetevi al nostro canale commentate condividete su facebook e mi raccomando stay lab stay lab iscrivetevi al nostro canale